Vanno avanti i rilievi sull'edificio di Piazza Garibaldi e Via Dorrucci, che ospita la Guardia di Finanza di Sulmona. Prima del risponso definitivo, le verifiche sismiche procedono speditamente. Nelle scorse settimane si è parlato di esodo da Sulmona e ricerca della serie alternativa, ma il comandante Luigi Falci ha spiegato che ogni decisione sarà presa dopo aver preso atto del risponso di un esame che è ancora in corso. All'indomani degli eventi sismici dell'agosto 2016 e gennaio 2017, crepe e lesioni sono visibili nello stabile che ospite finanzieri. Da qui la richiesta del comandante Falci di procedere con esami più approfonditi per accertare l'indice di staticità dell'immobile e la capacità dello stesso di resistere a un eventuale sisma. La caserma è in effetti un obiettivo strategico, unitamente agli ospedali, perché laddove si verificasse una forte emergenza sismica dovranno essere di ausilio le altre strutture. Le verifiche stanno andando avanti, afferma Falce. Prima del risponso definitivo bisogna eseguire tutti i rilievi che sono in corso da mesi. Da due anni quindi vanno avanti analisi e procedure, ma quattro mesi fa sono stati stanziati i fondi per la verifica sismica, che è in corso sullo stabile di Piazza Garibaldi. C'è solo da aspettare e parlare di esodo è ancora prematuro.